Novantasette. Novantasette. Conjunctions. Four. Congiunzioni. Quattro. Congiunzioni. Quattro. He fell asleep, although the TV was on. Si è addormentato, sebbene il televisore fosse acceso. Si è addormentato, sebbene il televisore fosse acceso. He stayed a while, although it was late. Lui è rimasto ancora, sebbene fosse già tardi. Lui è rimasto ancora, sebbene fosse già tardi. Non è venuto, sebbene noi avessimo un appuntamento. Non è venuto, sebbene noi avessimo un appuntamento. Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato. Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora. Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora. Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto. Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. Although he is drunk, he rides his bicycle. Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. Non ha la patente, tuttavia porta la macchina. Non ha la patente, tuttavia porta la macchina. Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta. Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta. Although she went to college, she can't find a job. Sebbene sia laureata, non trova un posto. Sebbene sia laureata, non trova un posto. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Sebbene abbia dolori, non va dal medico. Although she has no money, she buys a car. Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. È laureata, ciò nonostante non trova lavoro. È laureata, ciò nonostante non trova lavoro. Lei ha dolori, ciò nonostante non va dal medico. Lei ha dolori, ciò nonostante non va dal medico. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Lei non ha soldi, ciò nonostante compra una macchina.